salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo alla pista martens club di manziana pista di enzo scortichini adesso ci facciamo un giro di pista a piedi così vi faccio vedere come la pista qua c'è il palco con i box ingresso box e uscita box quindi senso orario qui abbiamo la prima curva a 90 gradi che immette su questo diciamo panettone dopo l'atterraggio subito curva 90 gradi e ancora un'altra curva che chiude quasi a 180 ci si mette qui con questo salto subito prima di questo tornante poi ancora qui si risale con un altro salto e un altro salto ancora piccolino poi curvone ancora a destra chiude ancora in maniera più stretta e poi ci si butta qui praticamente qua le macchinine girano da sole come si scende da questo punto e ci si mette su questo salto e qui si atterra poi c'è questo curvone a sinistra molto bello poi un pezzettino di allungo e un altro curvone a sinistra qua iniziano le curve a sinistra poi si allunga sempre qui staccatona e un curvone a sinistra di 180 gradi poi qua questo diciamo tornantino in sinistra destra e ci si butta giù in questo pezzo diciamo in discesa poi si arriva qui curva a destra quasi in 180 gradi per andare a affrontare questo doppio doppio qui i primi due e qui gli altri due e si atterra proprio in prossimità della curva 180 a destra che ci fa arrivare sulla diciamo secondo rettilineo opposto al palco poi abbiamo qua un'altra curva a destra di 90 gradi che ci porta al tornante a sinistra allunghetto e poi tornante a destra ancora quindi c'è un po' di misto un po' di curve veloci allunghi c'è un po' di tutto diciamo salti poi qua c'è sempre un altro allungo dal tornante che abbiamo fatto là si arriva qui serie di tornanti serie di tornanti destra e sinistra quasi si sta stretti per andare poi a tagliare il più dritto possibile infatti eccole qua la traiettoria si chiude qui e poi si si ritorna sotto al al palco e si rinizia il giro so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.